E' definitivo il bilancio dell'esplosione avvenuto in una fabbrica di fuochi d'artificio a Modugno nel Varese. Il bilancio definitivo è di nove morti. Infatti è morto nel reparto di rianimazione di un ospedale brindisino uno dei titolari della ditta di fuochi birotecnici in cui si era verificata una esplosione benediscorso danneggiando e distruggendo totalmente la struttura. Era arrivato all'ospedale brindisino in gravissime condizioni. Per la mamma delle vittime si tratta di un indolore troppo forte. Il sindaco di Modugno, Magrone, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.